Il Taranto riparte dal Panarelli Bis. Il tecnico ionico torna a sedere sulla panchina ionica dopo quattro mesi di assenza. Il nuovo trainer, che ha sostituito Nicola Ragno, è stato presentato nella sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone nel corso di una conferenza stampa lunedì pomeriggio, alla quale erano presenti i vertici dirigenziali rosso-blu. Insieme a Panarelli torna Gianluca Triuzzi in qualità di allenatore in seconda, a completare lo staff Gianmarco Petrelli, preparatore dei portieri, Francesco Negro, preparatore atletico e Antonio Carnevale, match analyst. Queste le parole di Panarelli sul Taranto che ritrova dopo pochi mesi. Io voglio mettere anche un punto oltre a queste otto partite che non sono stato io l'allenatore e voglio iniziare da oggi. voglio mettere anche da parte quello che è stato il campionato scorso perché posso fare solo tesoro delle cose della passata stagione, come io, come tutta la società, perché si cresce dalle esperienze. Personalmente, se ho commesso degli errori, in quattro mesi ho cercato di studiare prima me stesso e a mettermi in condizione di poter operare al meglio in quest'anno. Ho lasciato un Taranto dove ci sono ancora gran parte della squadra quest'anno, quindi rafforzata ancora di più e costruita con una base per dei sistemi di gioco. Fortunatamente, come ho detto anche in precedenza, mi conoscete, non si lavora per, almeno per quanto mi riguarda, non lavoro per sistemi, lavoro per principi e quindi cercherò di mettere la migliore formazione in campo per la salute del giocatore in questo preciso istante. Non ho pregiudizi per nessuno perché si parte tutti dalla linea di partenza e si inizia a lavorare con il mio staff e cercherò di fare le scelte come ho sempre fatto. Chi merita gioca, chi si allena gioca, chi ha una condizione migliore rispetto all'altro a pari merito gioca.